1.7 mille ogni parte 10 no secondo me ne ha uno a un barrett semiautomatico che però fa 200 di danno sul corpo perché io gli allora il primo porto che l'ho portato quello preso completamente nella fronte perché gli spuntava solo quella poi la seconda volta quando lui mi ha preso io l'avevo preso di nuovo in testa perché spuntava solo con lei lui mi ha preso nella gamba e mi ha lasciato avessi è giusto perché avevo si guance va bene però a lui però lui dovrebbe già essere cioè doveva già essere morto da un dall'inizio prima volta che le tattose il primo colpo l'ho mancato secondo era fermo presi in faccia di qui il scopo agitato io ho un finto quindi io non scende adesso una shot l'ho mancato un altro scelgo per forse la cinta ma già che hai un miliardo e mezzo no oh la scelga ma veramente tieni show amèli no 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 e poi no 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 ma quanti sono e questi Jungini faccio io perfetto Alla stute boiii Viene looting A posto Ma che cazzo fa sto posto Ma c'è sta una trappola Sta fa squibbi sto posto Un altro shield Wow Dammelo pure a me La sagra Guarda qua Sì non è che ho trovato Non uno shield ma Oh 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 Shit Oh 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 Ho fatto buca da qua tirando a caso E' arcato in video e va bene Mitraglietta E' Rigan Guarda non so dove siano le buche Aspetta che ho la palla ancora qua Aspetta vediamo Se ce la tiri fortissimo va Guarda come mi sdraio 12.000 solo Cioè se fai un salto schifoso ti da 30.000 Se fai il Se fai your side Se da 12.000 Se c'è gente qua Dove? 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 Eh pazzo è pazzo Dove è finita? Non lo so è pazzo Quanto è bianco o quanto è nero? Eh è bianco e nero Si sta a vola via E' pieno Bene vado zi Si fai bene anche io Quanto è l'uplo Zii mi è tappato Zii dove è tanto l'uplo Wow non frega Le armi facevano schifo Oh you damn Ok si andiamo a venire a quello No non è scappato Questi qua Questi qua Ok io ho due hit Ah no qui sto guardando via io Due hit Oh you damn Ho un altro Vieni andiamo a venare i tizi dentro il po' per te Ho fatto malissimo Vieni Vieni Arrivo Non riesco a cambiare direzione Sì mi sono fatto tutta la scala A cambiare la dalle Lo sapevo Oh Quanta skills Si mi è quasi arrivato il mio Se non c'è nessuno qua Si c'è una macchina che esplode qua E' la nostra Oh guarda di stanno fai Sei Ok Un'ateria Donna che schifo sto coso Ci vedo Che sta scappato la nostra macchina Che sto a mena Ho evitato E' stato 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 Un'altra Ok E' un pazzo questo poi Ok Beh dai Dio Beh dai Dio Pensavo di avere un'altra Dio 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 La tua faccia L'ha ucciso qualcun altro Non so chi Guardi un tipo ancora che ti stava meno è Ok Scusa però Avevo capito Va bene Tiene una scelta Una scelta Una scelta La scelta La scelta La scelta Fattivissimo Perché Eh va bene Anche dall'alto dietro Si va bene Lancia missi di te sei tirato in bocca te lo sei tirato Sì bravo anche troppo Madonna Che scastroso Questo è un po' Non me ne frega niente Mi faccio i medici Ristampi dei materiali sto scemo Vai Cosa Sì 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 Mi finisce Mi finisce 10 8 6 Sire vai Ok Non esploso No 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 Oh sì 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 Fanno eliminato da anche Lo scendini Serve tutto ciò che mi curi No sì 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 Ci sono C'è un bel cerchino Chi se ne frega da scar E' cosa meno importante Ce l'hai altre vende Sì Ma manca Buona 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 E' facile E' facile Non ho più colpi Eh ma c'è quel C'è quell'altro Oh l'ho aperto sì Dopo l'elmc E allora fai schifo al culo proprio eh Si Mi auto a festa I am Dov'è 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 C'è uno qua in teoria Dov'è Dov'è Il È Il Il Dottato con tutti i colpi attraverso il muro io attraverso il muro secondo il no 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 ah sì mi mettiamo dietro mesi cosa dietro mette così dietro c'è un altro rencia pur si viveva il precedino c'è lei non mi hanno aiutato perfetto di perfetto questo qua con lmc madonna quanti ragazzo io due non giocata benissimo sì siamo straforti madonna questa va bene anche anche se perdiamo e ho avuto la mitraglietta mi tengo il lancio puffi però no 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 nel tempo deve andare in sei fissi feloce ci sto provati 17 10 faccio un altro da me pre pazzo io ci mi prego portami il coso bravissimo ok se ne sei bene l'ha aperto sto qua il mio arriva da dietro occhio che dice chino o di fucile da caccia faccio madonna senza truppi si stasci danno si stasci da stato bravo all'interno quattro che il 55 ok altri 4 cilini ok di nuovo non 50 e 75 sono pronti da un altro paio ok ho dato a contattati avere questi che se ne frega se stanno fatta siamo in un attimo che ricarica ritorna donna quanti fatti di seguito abbiamo fatto ci siamo pure cura bello ci siamo giocata di un bene perfetto cioè meglio che non potevamo e per adesso comunque andata via quello lì quello lì che c'è stava a menà che rischiava di ucciderci o azzeccato un momento perfetto quando ha sfasciato il muro con le lmg lo preso in testa con tutti i colpi e concentratissimi proprio in puntino rosso era terra ok un cerchio un cerchio da per terra a caso non ce l'hai no il momento di fare per esiste la piazza ai micon lanciapuffi no vero no e martin non solo quanto siano da che non fa c'è uno che fa le buche tete hai fatto una buca what una punta 7 milioni io sono fermo me l'hanno buttata loro dentro sono svegliato o esplodi voi e ciò che è molto 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 guarda quello andato vero si si a terra esploso c'è solo un incastrato da dentro ma che fa non lo sai pazzo e spera per il suo amico è morto happy a euro però dov'è sempliato qua ok oltredività cioè ok o al bar di l'agendario mi devo avere con le curate che mi senti chiudi mi chiedi mi chiedi e voglio il lancio basta lascia mi chiuso ok questa è stata una buona idea perché tanto non sapevo sapere dobbiamo vincere o cristo ok sono dall'altro lato e sappiamo che sono con pazzi ma questo ecco l'ho preso in testa l'hai preso no o cazzo hai cose sono fatte poco danno un'arma dietro albero l'ho preso l'ho preso aspetta 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 lì dall'ultimo l'intotronto vabbè non è solito il progetto di vita un ciclo l'ho fatto 100 io non stavo a fare a wind se ho trappolo 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 li faccio un quale ho mancato vai farmi tre settimane trappolo no stavo ricaricato bella 160 watt buono figo 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 un quattro